Ok. Welcome a Bord, benvenuti a Bord. Oggi mi vedete da una posizione particolare perché sto usando un laptop che ha la telecamera sulla tastiera, è incredibile a dirsi, ma vabbè, vediamo come va questa puntata. Vedete subito che non sono solo e c'è infatti, lo presento subito, Leonardo Piccinetti. Ciao Leonardo. Dove sei? In Italia o in Gran Bretagna? No, no, sono qui in Regno Unito. In questo periodo, insomma, non è facile lavorare. Io mi diverto, no? Certe volte, vedete, mi definisco avvocato con valigia perché sto sempre in giro, va a parto tra Gran Bretagna e Italia. In questo periodo si sta a casa, anzi, raccomando, ora in questo periodo veramente sono chiuso dentro casa, in quanto essendo tornato da poco dall'Italia, sono costretto a stare due settimane in quarantena. In Italia devo stare in quarantena? Sì, in questo momento dovete stare due settimane in quarantena per chi arriva dall'Italia. Mentre, l'ho detto anche la puntata scorsa, chi va in Italia dalla Gran Bretagna può o fare il tampone in aeroporto o recarsi nelle asle della città dove appunto va e si fa fare il tampone, rimanendo a casa finché non ha avuto poi il risultato. Ve lo dico perché me lo chiedete, ma passo subito, torno subito a Leonardo che non voglio farlo attendere. Leonardo, purtroppo si deve parlare di Covid perché ormai sono mesi e mesi che si parla solo di questo. Ma come possono coesistere Covid e innovazione? Come state lavorando? Che state facendo? Come riuscite a superare questo momento? Beh, questa è un'importante domanda perché una delle cose che sia come il Euro for Business che con anche le altre società stiamo facendo intanto è analizzare quali sono i trend non solamente nell'ambito della salute. E questo è molto importante perché il mondo è cambiato totalmente, è cambiato a livello proprio di modelli di business, se pensiamo solamente nel settore dell'agri-food, come è cambiato naturalmente anche tutta la filiera direttamente. Noi come Euro for Business abbiamo fatto uno studio molto interessante su quello che riguarda il discorso mappatura delle analisi del startup e dell'analisi di supporto delle piccole e medie imprese in Europa. Abbiamo anche inserito il Regno Unito, anche se il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea, però è molto interessante vedere come tutti i paesi nell'Europa 27-28 hanno supportato le piccole e medie imprese nell'ambito dell'innovazione. Questo è molto utile perché naturalmente le sfide sono tante, sono le sfide globali, penso solamente all'intelligenza artificiale, penso quello che riguarda il discorso del cambio climatico che tornerà più avanti perché è un argomento che per noi è fondamentale soprattutto nel discorso delle rinnovabili. Questo studio ha permesso a noi soprattutto di analizzare quali sono i paesi dell'Unione Europea che hanno supportato. Il Regno Unito devo dire che ha aiutato moltissimo le piccole e medie imprese con la Fundy Agency, principalmente i nuovi di UK, su un supporto specifico a vedere come creare un business nel contesto del Covid. L'Unione Europea attraverso un programma importantissimo ha focalizzato molto la sua priorità su quello che riguarda l'innovazione e la transizione neutrale del cambio climatico nel Covid, quindi c'è una grandissima implicazione su questo. E fondamentalmente se pensiamo che adesso c'è un bando che si chiama European Green Deal all'interno del contesto europeo di un miliardo di euro di cui anche la stessa Regno Unito partecipa direttamente. Quindi dobbiamo tenere in considerazione che l'innovazione è fondamentale nella sostenibilità, ma è fondamentale adesso sul processo del Covid, perché il Covid non è finito, come sappiamo, ma soprattutto quello che è molto importante è avere degli strumenti, delle tecnologie. Oggi lavoriamo sempre di più da casa, quindi è molto importante vedere anche il discorso di come ristrutturare per una piccola e media impresa questa attività nell'ambito del Covid. Però chi è interessato, per esempio, possiamo dare il sito dell'Unione Europea sul nostro studio che abbiamo fatto sulle start-up, che è fondamentale perché una start-up... Poi se me lo mandi lo metto tra le informazioni, se mi mandi il sito lo metto tra le informazioni. Senti, ma hai qualche caso studio da poterci... Guarda, noi abbiamo un caso che secondo me ha avuto un grandissimo successo a livello europeo, ma soprattutto anche qui in Regno Unito. Il progetto si chiama RecoFarma, è un progetto finanziato dal più importante programma di ricerca e di innovazione dell'Unione Europea che si chiama Orizzonte 2020. È un progetto tra università e industria, ma la cosa interessante, a parte che noi gestiamo la parte della commercializzazione, della disseminazione di questo progetto, il progetto RecoFarma focalizza molto tutto ciò che è l'impatto nell'ambito farmaceutico e nell'ambito ambientale. Quindi, per esempio, tutte quelle medicine che vengono ingerite o comunque vengono presentate fondamentalmente hanno comunque un effetto contaminante nell'acqua che hanno un ruolo importantissimo. Il caso studio, che noi lo diciamo, siamo riusciti, noi siamo una piccola impresa, quindi non abbiamo una struttura molto grande, noi però siamo riusciti a collaborare e stiamo collaborando adesso con l'NHS, quindi il programma nazionale sanitario, specialmente in Scozia. Abbiamo fatto adesso delle analisi specifiche per quanto riguarda... Scusa, ti interrompo, per chi ci ascolta dall'Italia, l'NHS sarebbe il sistema sanitario britannico, come faccio un esempio, l'ASL in Italia. Certo, il sistema sanitario del Regno Unito è molto avanzato per quello che riguarda la sostenibilità. Pensa che in Scozia c'è il più importante centro di eccellenza di ospedale al mondo sulla sostenibilità e quindi questo potrebbe essere anche interessante vedere. Tenendo presente che il prossimo anno, adesso per Covid, è stato rinviato, il prossimo anno c'è la conferenza della COP26 sul cambio climatico a Glasgow, di cui noi parteciperemo direttamente e tra l'altro c'è una forte relazione tra la presidenza del Regno Unito e dell'Italia. Quindi, tenendo presente che i contaminanti nell'ambito farmaceutico hanno un'importante attività. E posso dirti una cosa interessante, visto che tu sei di Salerno, l'Università di Salerno è un'eccellenza su questo. Noi collaboriamo con l'Università di Salerno, per esempio, sui contaminanti dell'acqua che vengono nel sistema farmaceutico. Quindi è importante sviluppare delle nuove tecnologie nell'ambito farmaceutico, tenendo presente che solo un 1% dei finanziamenti alla ricerca nell'ambito farmaceutico diventano comunque vaccini. E quindi questo è importante saperlo perché c'è tantissimo investimento di ricerca su questa tematica. Nella zona dove siamo noi, nel Ciesce, c'è la più grossa impresa nell'ambito del Regno Unito che sta facendo il vaccino del Covid. Però è interessante capire, e questo è importante anche, come coinvolgere non solamente le imprese, ma anche la società e gli enti locali su quello che riguarda l'aspetto contaminante. Adesso l'Unione Europea sta sviluppando, nell'ambito della Zero Pollution Strategy, della European Green Deal, proprio tutto il discorso dei contaminanti nell'ambito farmaceutico. Quindi sicuramente c'è un impulso fondamentale nell'ambito delle tecnologie, ma dobbiamo tenere in considerazione anche la sostenibilità. Bene, mi ha anche piacere di questa tua collaborazione con l'Università di Salerno, dove io ho studiato tra l'altro. Vedo alle tue spalle, oltre l'Amerigo Vespucci, orgoglio italiano, ma anche una bellissima bandiera dell'Unione Europea. Sai che io sono, ero e rimarrò un europeista convinto, un'istituzione che avrà anche dei difetti, ma che dal dopoguerra oggi ha creato anche un clima di pace in Europa, laddove fino a pochi anni fa gli Stati europei hanno fatto la guerra gli uni con gli altri. Oggi garantisce da tantissimi anni anche un sistema di pace, di convivenza e di libertà, ed è importante. Ma come si concilia la Brexit con l'innovazione? Sei preoccupato o ci sono prospettive? È interessante perché per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione si continuerà come sempre, nel senso cambieranno magari le regole. Il Regno Unito tuttora, fino alla fine del programma in questo momento, partecipa direttamente ai programmi come se fosse paese membro. Sicuramente nel prossimo futuro programma, che è un programma molto ambizioso che si chiama Horizon Europe, il Regno Unito dovrà partecipare come paese associato. Che significa paese associato? Pensiamo alla Svizzera, alla Norvegia. Sono paesi dove c'è anche una forte tecnologia, in cui dovrà essere fatto un accordo di associazione con l'Unione Europea, ma io credo che non sarà un problema, sarà la prima priorità, perché vediamo solamente i risultati adesso del Regno Unito. Il Regno Unito è il secondo paese dopo la Germania per quanto riguarda la partecipazione in progetti finanziati da Orizzonte 2020. Che significa? Che c'è molta innovazione, non solamente nelle imprese, ma anche nelle università. Le prime due principali università in finanziamento di questo programma sono le università inglesi, ma io penso che tutte le università inglesi continueranno a lavorare bene come hanno sempre lavorato, perché c'è un supporto all'innovazione oltre che un supporto alla ricerca fondamentale. Quindi il problema dove verrà, tu sei un avvocato, lo sei meglio di noi, sarà sicuramente il contesto della propietà intellettuale, quindi i brevetti, che dovremmo capire bene come sarà integrato il discorso del brevetto europeo, però sarà anche importante capire le regole, le regole quando io dico non solo di partecipazione ai programmi, ma anche delle direttive. Quindi io penso alle direttive ambientali, quindi parlavo prima dell'acqua, non posso parlare del food, posso parlare nell'ambito farmaceutico, come dicevo, quindi questo sarà molto importante vedere quale sarà il ruolo di un paese, non dell'Unione Europea, a riguardo anche su questo. Ma ci sono paesi che hanno partecipato e non sono dell'Unione Europea e comunque hanno una forte innovazione. Io penso a Israele, Israele non è un paese europeo, ma prende un sacco di soldi a livello di progetti di ricerca e di innovazione, perché sono innovativi. Quindi noi dobbiamo calcolare che su il discorso ricerca e innovazione è anche educazione, perché c'è un terzo programma che è importante per gli studenti italiani nel Regno Unito, che magari ci potremmo ritornare, che è il programma Erasmus. Noi veniamo da una generazione di Erasmus, io vengo da una generazione in cui la prima cosa che ho fatto è fare un programma Erasmus. Io ho fatto la tesi e il master in Regno Unito, grazie anche a un'esperienza Erasmus, quindi la generazione Erasmus continuerà comunque con il Regno Unito. Quindi ricerca, innovazione ed educazione saranno sicuramente la priorità dell'Unione Europea, del Governo, sulla programmazione futura che comincerà nel 2021. Ok Leonardo, allora insomma, malgrado Covid, malgrado Brexit, sembra che la ricerca e l'innovazione non si fermino e certamente non saranno comunque la pandemia o la Brexit a fermarle. Condivido il tuo punto di vista, anzi, ci sono anche delle diverse opportunità che nascono da queste problematiche. Io mi scuso con chi ci ascolta, qualche volta la linea si è persa, spero, noi sapete che registriamo la mattina, la riascolto, spero che non abbia creato troppo disturbo qualche secondo di perdita di segnale. Ringrazio Leonardo per essere stato con noi, che aspettiamo quando vuoi, sei sempre benvenuto. Grazie. Insomma, a voi tutti, vi ricordo sempre di seguirci su YouTube, se volete vi fa piacere vi iscrivete anche al canale, su Facebook anche ogni puntata la posto sul mio profilo pubblico di Facebook, le informazioni che vi ha dato Leonardo le troverete sotto alla pagina YouTube con i link, in modo che ci cliccate sopra e ci potete andare. Vi saluto, un abbraccio e un caro saluto a tutti quanti, agli italiani in Italia e agli italiani in Gran Bretagna. Ciao. Grazie.